Sai, la politica è tutto un, diciamo, una volta chi lo chiamavano così, il teatrine, eccetera, ma ogni tanto quando uno, sai, sono come gli orologi fermi, che una volta ogni tanto segnano l'ora giusta. E la politica effettivamente, io credo che, qui il discorso sarebbe serio, io ho scritto un libro una volta, se posso autocitarmi, che si intitola La democrazia non esiste. Ora, noi abbiamo tutti i riti della democrazia, questo lo diceva anche Rodotano, che era ben più autorevole di me, e soprattutto in questi argomenti. I riti della democrazia, noi abbiamo i partiti politici, poi dopo ci sono i dibattiti, poi si va a votare, e così via. Però è ovvio che in un mondo come il nostro, che è estremamente complesso dal punto di vista economico, ma anche in tanti altri rispetti, cioè le decisioni non sono prese dalla popolazione. Pensate per esempio a quello che è successo tra il 2011 e il 2022, cioè 11 anni di governi in Italia, nessuno dei quali, eccetto forse, in un certo senso, quell'anno in cui ci fu il governo giallo-verde, che in realtà anche quello non era stato scelto dagli elettori, ma comunque era la coalizione di due partiti che insieme arrivavano a fare una maggioranza. Però da Monti fino a Draghi, praticamente, quelli sono stati i governi del presidente, compreso quello di Renzi, in cui uno va a votare, poi comunque vadano le elezioni, diciamo così, i suggerimenti o le decisioni degli elettori non vengono prese in considerazione, allora uno si chiede veramente, dice ma perché devo andare a votare? Cioè proprio soltanto per fare il rito, un rito vuoto, così, e i giochi dei partiti, quelli mi interessano poco, è ovvio che le decisioni vengono prese altrove. Tra l'altro, recentemente, quella era una bella notizia, qualche giorno fa, perché anche senza leggere i giornali le notizie arrivano e poi le notizie ovviamente si possono ottenere, appunto, come dicevi prima, da siti, eccetera, la Merkel e Sarkozy hanno confessato, diciamo così, o perlomeno dichiarato, che effettivamente sono state loro, loro due, a forzare Berlusconi alle dimissioni e per cercare di convincerlo, diciamo così, con le buone, avevano scatenato, dal punto di vista economico, quella tempesta dello spread che poi portò Berlusconi a scegliere voglio stare a governo o voglio perdere le mie aziende, praticamente, o il valore delle mie aziende. E queste cose loro le dicono, ma insomma, quando uno le legge si accorge che effettivamente, allora vuol dire che dietro c'è effettivamente qualcuno che, non dico che tiri sempre i fili, però, in realtà, che ti dicono, lei l'abbiamo capito perché quando ha battuto le mani a De Masi ho capito dove stavano, il problema è questo, e la Merkel, per esempio, qualche settimana fa invece aveva fatto, perché queste dichiarazioni erano di Sarkozy, lei aveva fatto delle dichiarazioni diverse sulla guerra in Ucraina, per esempio, in cui aveva detto, ah ma sì, ma noi i patti di Minsk nel 2014 li abbiamo firmati soprattutto per prendere il tempo per armare l'Ucraina, ma allora anche lì uno capisce che sì, c'è questa facciata in cui i partiti politici prendono delle decisioni, i governi vengono insediati, eccetera, si fanno le elezioni, e così via, ci sono le comunità internazionali, eccetera, tutto sembra così, e poi dietro, ovviamente, c'è un cane che non apprezza assolutamente, no, questo è il collega di Bisio di ieri sera, che insiste, però scusami Pier Giorgio, stai slittando pericolosamente su, ma non vogliono dirlo, no, no, non è che non vogliono dirlo, poi ce lo dicono, ma con un certo ritardo, perché Sarkozy ce lo dice adesso, siamo nel 2023, e non parliamo di Ustica a proposito di ritardo, per esempio, anche quello, uno si chiede perché, oggi Amato salta fuori con questa storia, dice che Craxi aveva detto a Gheddafi, che stavano facendo un attentato, la figlia di Craxi dice, come si permette, dice, io ho letto i diari di mio padre, non gliel'ha detto lì, gliel'ha detto tre mesi dopo, allora glielo dicevo, però no, sei anni dopo, dice però, era sei anni dopo, sei anni dopo, quando bombardarono Tripoli, gli americani, anche quello è una cosa molto interessante, quindi, no, io non credo che, via di uscita, ah, io questo, l'unica cosa che posso suggerire io, che è pericoloso, perché ovviamente, non sempre funziona, è che uno, anzitutto, dovrebbe evitare di farsi soffrire, ah, stavolta, stavolta sono io che non, che non devo parlare, qui c'è qualcuno, che di dietro, no, no, in realtà, la prima cosa è cercare di evitare i commenti ai fatti, no, e concentrarsi sulle notizie, per esempio, sulle notizie dell'ANSA, no, che vengono semplicemente poi commentate dai giornali, perché i giornali, come è ovvio, cioè, propongono opinioni e letture di quello che succede. Anche perché sulle notizie vengono bruciate totalmente dalla rete, no, arriverebbero tardi se fossero fatti solo le notizie. Uno guarda le notizie, poi dovrebbe avere, farsi, naturalmente, durante la vita, nel corso della vita, un background, per esempio, di storia o di economia, eccetera, in cui riesce a prendere queste notizie isolate, no, e inserirle, diciamo così, in un contesto, più ampio, no, di quello quotidiano, in cui magari queste cose hanno un senso, derivano da così, in altre parole, usare la logica, io questo lo dico perché la mia professione è sempre stata quella, cioè, di insegnare la logica matematica, no, in particolare, ma più in generale, proprio, la logica, quello facevo di professione. È pericoloso perché, sai, spesso uno fa delle deduzioni logiche, ma le cose non sempre sono razionali, e quindi con la razionalità arrivi fino ad un certo punto, però quello sicuramente ti aiuta, no, cioè cercare di mettere insieme, no, l'immagine che tu hai del mondo, e notizie che ti arrivano, e dice, ma queste cose non è difficile. scusa, obiezione. No, no, ce ne sono parecchie, che pure io mi posso fare. Procedimento indiscutibilmente giusto, faticoso, lo fa ognuno da solo? Per suo conto, davanti al suo computer? Perché, questo sarebbe l'ideale. Certo che sarebbe l'ideale, ma io non ce la farei minimamente, nel senso che la massa di notizie, diciamo, da filtrare, di cose da capire, sarebbe sterminata. Per questo esistono, delle agenzie, chiamiamole così, che sono tradizionalmente i giornali, che adesso sono in pesantissima crisi, ma la loro funzione qual era? Era questa. Ogni giornale, la verità a suo modo, la Repubblica a suo modo, il secolo XIX a suo modo, il fatto quotidiano a suo modo, è un'agenzia che prova, a proporti ogni giorno, la sua interpretazione, diciamo, dell'importanza delle notizie. Quindi, per il tempo è importantissimo l'acciaio italiano, per il fatto, è più importante dei masi, eccetera, eccetera, e se viene meno questo tipo di, chiamiamolo di servizio, cioè, io pago perché qualcuno, il giorno prima, abbia fatto il lavoro, che io non avevo tempo e voglia di fare, ecco, se viene meno questo servizio, e ognuno rimane da solo, di fronte a questo, sterminato universo, di notizie, di umore, di notizie, poi, vere o false, verificare le notizie, è complicato, è faticoso. Come si fa? Come si fa? Si aspetta, si aspetta, uno non deve avere la fretta, diciamo così, di sapere quello che è successo oggi, oggi, o quello che è successo ieri, saperlo oggi, lo saprai tra qualche anno, e spesso con grandi sorprese, per esempio, quando noi eravamo giovani, io e te più o meno abbiamo la stessa età, la guerra in Vietnam, era quella che ci appassionava, io ricordo, che ad un certo punto, continuavo a guardare i telegiornali ogni giorno, oggi il fronte si è spostato di 50 metri, invece ieri era regredito di 200, dopo un po' uno non capisce più nulla, perché? Perché o fai quello di professione, allora segui giornalmente quello che succede, e poi alla fine trai le conclusioni, oppure ti conviene aspettare, e poi leggerti libri su quello che è successo, oppure, per esempio, a me è successo una volta di incontrare un signore che si chiamava McNamara, il cui nome a te dirà qualcosa, a molti di loro no, era segretario della difesa, in realtà, di Kennedy e di Johnson, era l'uomo che veniva identificato con la guerra in Vietnam, Simon e Garfunkel, per esempio, in una loro canzone cantavano la guerra di McNamara, che poi in realtà lui era un ministro, non era lui che l'aveva dichiarata, e così via. E lui a un certo punto ha fatto outing, negli anni 80, alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, dicendo molto onestamente, dice sì, noi abbiamo cominciato la guerra in Vietnam, perché c'è stata una dichiarazione di guerra da parte del congresso americano per un attacco, il famoso attacco del Golfo del Tonchino, in cui una nave americana era stata attaccata dai vietnamiti, e dunque il congresso ha dato, così come si farà, tra l'altro, prima o poi in Ucraina, perché poi casca il missile in un paese della Nato, e a questo punto c'è la giustificazione per fare veramente la guerra, e lui ha detto, ma quello ce l'avamo inventato di sana pianta noi. Volevamo avere una scusa per fare la guerra, l'abbiamo creata. E quando uno però, di fronte a queste affermazioni, a queste confessioni, diciamo così, di coloro che poi erano al posto di comando, si chiede, e oggi che cosa faranno? Faranno la stessa cosa, perché in realtà, ce lo diranno tra 30 anni, allora uno si chiede anche se ha senso leggere quotidianamente queste cose, per continuare a correre dietro a robe che poi, appunto come Usticano, ci sono decine di possibili scenari che sono presentati, e un giorno qualcuno ce lo dirà. Noi oggi la storia la conosciamo, per quanto possiamo conoscerla, nel passato remoto, o sufficientemente remoto da avere una distanza, da non poter più interferire con il presente, e allora in quel momento si può dire la verità. Prima ovviamente tutto viene, cioè in altre parole, io mi chiedo se ha senso che noi ci interessiamo di queste cose, che intanto avvengono al di fuori. Questi sono felici, evidentemente, della loro vita. Ci vogliono mettere il bavaglio, ci vogliono mettere il bavaglio. Beh, quelli ci provano comunque, no? A parte, non in questo modo, ma non... che vogliono mettere il bavaglio.